Stai facendo la la... no, no, stai facendo il video Spaccano il freddo, con le macchine qua che non è più neanche il... il freddo a mano come i vecchi temi Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube stiamo in discesa dal Foscagno, guardate quanta neve che c'è stiamo rientrando a casa io e il mio amico Pluriano eccolo qua Sto guardando la strada però questo qua noi stiamo rovinando comunque stiamo scendendo dal Foscagno abbiamo fatto gasolio a tre palle abbiamo comprato la bresaola e abbiamo preso la bresaola adesso sarò carici come moda vedete qua ragazzi guardate il paesaggio qua piccola galleria stiamo scendendo stiamo scendendo stiamo scendendo temperatura a 4 gradi io non so temperatura a 4 gradi e siamo al... a maggio in Oltrato maggio in Oltrato eh sì adesso vi faremo vedere alcuni paesi qua della Valtellina il primo paese che incontriamo qua si chiama Arnoga vabbè una canzone come Give me some loving fa pensare in una giornata come quella di oggi a un'altra frase vedete qua ragazzi la strada invece se cos'è è una strada di merda eh quello si questo speciale di comicità americana non so se a voi piace o se l'avete mai affrontata ma ve lo consiglio caldamente uno spettacolo che si chiama Revelations avrà almeno una trentina d'anni ed è scritto e interpretato e ovviamente il mio amico che guida a voce da Bill X un comico americano che non è più tra noi ma che in qualche modo per unificare la questione verrebbe a dire anche lui aveva capito tutto diceva che la vita it's just a ride è soltanto un giro di giostra non è vero che è tutto reale è che noi non ce ne abbiamo guardate qua la neve guardate la neve la neve la neve va bene dai ragazzi vi salutiamo perché io devo tenere in mano il telefono e e farmi tutta la strada per 120 km con in mano il telefono non è l'ideale va al di dentro vedi siamo qua va al di dentro però qua più avanti però siamo avanti fuori va beh qua più avanti c'è Arnoga dai vi faccio vedere Arnoga e poi chiudo la live qua chiudo il video ecco qua siamo in prossimità di Arnoga dopo vi faccio vedere l'hotel Viola guardate qua guardate qua guardate qua guardate qua ovviamente musica in sottofondo a nastro ecco lì questo è Arnoga quello lì che vedete più avanti è l'hotel Viola qua qua vedete quello lì è l'hotel Viola questo e qua siamo Arnoga qua più avanti qua a destra andate per la Val Viola vedi qua il cartello qua Val Viola va bene siamo in discesa tutto tranquillo vedete le montagne piene ancora di neve 6 gradi ciao a tutti e buona giornata ciao 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 ciao